Buonasera e benvenuti a Capitol, il talk show sull'attualità dove affrontiamo con esperti politici e professionisti i temi del momento. Per la prossima mezz'ora parliamo della situazione economica in Italia e do il benvenuto ai miei ospiti. Carla Ruocco, ex presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Buonasera a tutti Buonasera, Enrico Cappelletti, deputato che si occupa da anni in Parlamento di banche Buonasera e grazie per l'invito E l'avvocato Giuseppe De Simone, consulente in diritto bancario in difesa dei correntisti Buonasera a voi, grazie per l'invito E Thomas Mackinson, giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera Thomas Buonasera Marco, buonasera a tutti voi Allora Mackinson, inizio proprio da lei. Sul Fatto Quotidiano ha pubblicato un dossier sulle scadenze dei decreti attuativi mancati dal governo In parole semplici si tratta di promesse non mantenute che riguardano tra l'altro molti soldi Ci può fare qualche esempio delle voci che l'hanno colpita di più e magari anche spiegare a chi ci segue da casa cos'è un decreto attuativo? Sì, allora i decreti attuativi sono in sostanza quella legislazione di secondo livello che viene preparata dagli uffici tecnici, dagli uffici legislativi quando si fa una norma cioè il governo fa una norma, un decreto tipicamente e poi questo decreto deve trovare però degli atti secondari in cui viene attuato cioè viene detto in che termini, con che modalità, quando e come, le coperture e questo articolato è essenziale perché c'è una data di scadenza nel decreto e se non viene emanato nei termini previsti quello decade e i fondi rimangono in un cassetto, in un freezer come lo yogurt tornano in sostanza al ministero di competenza Questa cosa è un problema che conosciamo da molti anni ogni governo si propone di affrontarlo, il Parlamento lo ha fatto eccetera ma in realtà si trascina il risolto e crea degli imbuti enormi guardando soltanto la legge di bilancio, quella varata lo scorso dicembre ci sono 5 miliardi di euro di fondi che erano stati previsti, stanziati ma erano appesi al fatto che venisse emanato poi il decreto attuativo di riferimento per lo sblocco, per dare come dire il semaforo verde alla spesa e agli interventi e invece così non è stato quando io il 28 di aprile ho fatto la mia indagine scartabellando tra tutti questi decreti ne ho trovati e adesso prendo, ecco erano 181 quelli non ancora attuati, 52 erano scaduti per sempre cioè quelli bisognava rifare tutto in sostanza alcuni riguardavano il PNRR che è una voce come dire come un filo dell'alta tensione quando senti parlare di PNRR dice oddio siamo in ritardo quello che racconta quella rassegna che ho fatto è che in realtà siamo in ritardo anche diciamo su provvedimenti ordinari benché incardinati in decreti che dovrebbero avere caratteristiche di urgenza in realtà quelle attività che sono indispensabili per mandare avanti il paese sono state annunciate ma hanno poi trovato una risposta e tante ce ne sono ma c'è un esempio ecco quello che mi ha colpito seguendo la campagna elettorale scorsa tante volte abbiamo assistito a delle promesse da parte di chi oggi sta al governo in merito alle occupazioni abusive degli alloggi cosa dicevano i proveri proprietari di immobili occupati abusivamente non devono pagare l'IMU che è una tassa iniqua e di sinistra ha una sua ragione perché non mi paghi l'affitto e Dio mio come faccio a pagare l'IMU allo Stato bene vengono previsti 75 milioni di euro in finanziaria per i prossimi tre anni quindi 75 75 75 e invece il 16 dicembre i poveri proprietari di immobili dovranno pagare l'anticipo della rata dell'IMU perché il decreto a cui era appesa quella misura non è stato fatto questo è un esempio questo per dire che cosa che quando sentiamo i politici tutti non faccio distinzioni che dicono pronti ok no perché poi c'è una macchina amministrativa incardinata nei ministeri che deve tenere dietro queste promesse fate conto che l'articolo 1 della legge di bilancio che citavo prima contiene 1013 commi 1013 una buona parte di questi vanno a indicare che dovrà esserci un decreto che dà l'attuazione alla norma che è lì prevista ma vi rendete conto che 1013 è un numero gigantesco quindi in premessa c'è questo problema non so se siete d'accordo è chiaro certamente Macchison è molto chiaro se se vuole che ne faccio a Iota magari come no se hai qualche altro esempio poi magari torniamo su delle cose più locali ma intanto se ci vuole fare qualche altro esempio perché già quello che che ci ha detto è abbastanza prego ci sono diciamo misure che impressionano per gli importi 50 milioni di euro che ne vanno così perché manca un decreto ma anche misure che hanno a che fare come dire col sentimento del paese ne dico una abbiamo parlato tutti dell'orsa in Trentino del problema dei cignani a Roma eccetera eccetera benissimo io nel mio pezzo perché è uscito il 28 di aprile dicevo attenzione tra tre giorni scade il decreto che doveva varare un piano quinquennale per il controllo della fauna selvatica e tre giorni è scaduto sono andato a vedere oggi per voi ho detto ma sarà scaduto ci avevo preso è scaduto come nulla fosse eppure questo problema riempie i giornali riempie i servizi televisivi e nessuno davvero se ne occupa perché anche quando si creano come dire gli strumenti per farlo poi non vengono attuati mentre io visto che abbiamo come dire anche una la possibilità di vedere a livello di geografico dove ricadono i provvedimenti raccontavo che a Milano l'ultimo tratto dell'M4 la nuova metropolitana non riceve finanziamenti per 50 milioni perché non è stato fatto il decreto ci sono tante misure che riguardano Lazio posso farvi degli esempi magari ci torniamo fra poco Michelson dopo andiamo un po' più sul locale e glieli chiedo va bene? perfetto sì chiedo invece adesso all'onorevole Cappelletti abbiamo visto dal lavoro di Thomas Macinson del Fatto Quotidiano che il governo non rispetta le scadenze però qualche giorno fa abbiamo assistito ad una scena per la prima volta abbastanza desolante per la stessa ammissione della Meloni del presidente Meloni una figuraccia la definita dove 25 suoi colleghi erano assenti e quindi la maggioranza è andata sotto su una votazione importante se ci vuole spiegare cosa è successo e di che votazione si trattava sì è stato clattante perché non era mai successo nella storia della Repubblica Italiana che un governo presentasse un DEF che è il documento economia e finanza cioè una previsione di spesa all'interno della quale ci sono tutti quei dati macroeconomici relativi agli investimenti pubblici alla spesa pubblica al tasso di indebitamento alle previsioni sull'andamento del prodotto interno lordo praticamente l'intera politica di un governo si può leggere attraverso il DEF quindi è probabilmente se non la più importante sicuramente una delle votazioni più importanti dell'anno ebbene non è successo che una maggioranza non avesse la maggioranza per vederla approvato in realtà gli assenti erano molto più di 25 la maggioranza alla Camera ha 438 seggi tra l'altro se posso per inciso 438 a 16 sono una maggioranza assoluta molto ampia non è quella che è risultata dalle urne perché se andiamo a contare i voti dal centro-sinistra uno a uno sono di più dei voti che sono stati presi nelle ultime elezioni politiche del centro-destra però con la legge elettorale che ha una grossa fetta di maggioritario è di fatto legittimamente per carità il centro-destra ha vinto le elezioni comunque di quei 238 seggi sono mancati i 201 voti che erano necessari per vedere approvato questo provvedimento ora io ero presente potrei raccontare un aneddoto che secondo me è anche interessante lei non ha fatto il ponte ha preferito andare a lavorare ah beh lì hanno fatto una figurazza perché poi erano gli stessi che aditavano come fanulloni i percettori del reddito di cittadinanza poi di fronte ad una situazione in cui sono loro pagati per tra l'altro esercitare un diritto ma anche un dovere è quello di andare in Parlamento e non si sono presentati chiaramente poi attenzione il voto è stato recuperato il giorno successivo si è riunito il Consiglio dei Ministri il DEF è stato approvato però ecco l'aneddoto siccome ero presente è una cosa che mi ha colpito molto generalmente quando governo e maggioranza sono in difficoltà interviene il terzo polo abbiamo visto anche sul DEF il Senato Matteo Renzi che ha votato a favore del governo non ha votato contro anche se dovrebbe essere opposizione ma durante quei 5-6 secondi perché sapete che da quando il Presidente della Camera il Presidente del Senato indica aperta la votazione ci sono appunto quei 5-6 secondi per votare il Ministro Giorgetti che era di fronte a me ha tirato l'attenzione ma in maniera molto 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 evidente nei confronti dello spicchio di assemblea del terzo polo per dire ma cosa state facendo ma cosa state votando ora io ho interpretato come ma gli accordi erano diversi infatti non è affatto escluso che si siano sbagliati che sia stato un errore che una maggioranza però tra l'altro anche molto solida 238 16 su 400 abbia necessità di ricorrere ai voti il terzo polo perché altrimenti non riesce a governare beh su questo ciascun cittadino prenderà farà le sue le valutazioni certamente vado da Carla Ruocco Ruocco questo governo avrebbe molto lavoro da fare anche sulle banche lei è stata presidente della commissione d'inchiesta sulle banche e nella relazione finale sono state evidenziate molte criticità importanti del sistema bancario visto che poi col cambio di governo questa relazione e il lavoro che avete fatto non ha ricevuto secondo me la giusta attenzione mediatica ci vuole spiegare cosa avete rilevato e quindi poi questa relazione in sintesi cosa va a suggerire a chi adesso governa sì grazie alla domanda e innanzitutto voglio tranquillizzare che in questo periodo così turbolento comunque il sistema bancario italiano si dimostra solido e adesso vedremo perché tuttavia è evidente che ci sono delle criticità come lei ben sottolinea ed evidenzia che sono state appunto inserite all'interno della relazione e che tra l'altro hanno trovato anche delle evoluzioni successive rispetto agli eventi che poi si sono susseguiti Avvocato Giuseppe De Simone lei come consulente aiuta i risparmiatori a difendersi proprio dalle banche che fanno richieste non lecite o addirittura in alcuni casi truffano i azionisti e i risparmiatori secondo lei restando in tema politico cosa dovrebbe fare la politica per tutelare i risparmiatori beh innanzitutto mi ricollego a quello che la Presidente Ruocco diceva poc'anzi no? quindi parlando dei cosiddetti crediti deteriorati la gestione di questi crediti deteriorati è possiamo affermarlo senza tema di smentita veramente una vergogna per tutta una serie di motivi sintetizzo in primo luogo oggi il nostro sistema bancario può a proprio insindacabile giudizio etichettare una persona come cattivo pagatore segnalarla a sofferenza nei sistemi di rilevazione che sono o quello gestito dalla Banca d'Italia o alcuni che sono gestiti dalle società private che fanno questo servizio beh da quel momento quella persona è una persona che possiamo definire morta quella persona non potrà neanche comprare un telefonino a rate quindi questo è il primo problema sul quale la politica avrebbe il dovere di intervenire evitando che un operatore bancario possa ad libitum affibbiare questa etichetta a un poveraccio che soltanto perché ha per vari motivi omesso di pagare una rata del proprio finanziamento venga dichiarato e ritenuto insolvente e quindi sostanzialmente equiparato ad un morto civile la seconda la gestione di questi crediti cosiddetti deteriorati o crediti cattivi la politica dovrebbe diciamo visto che si parla anche di commissioni d'inchiesta fare una cosa che andrebbe fatta cioè capire chi c'è dietro il mondo delle società cosiddette di cartolarizzazione che sono quelle che gestiscono questi crediti cattivi che sono quelle che per intenderci ci mandano praticamente le case all'asta perché le banche attraverso la legge sulle cartolarizzazioni hanno ottenuto la possibilità di pulire i propri bilanci cedendo svendendo questi crediti al 20-25% del loro valore nominale rimandando la palla a questi soggetti il problema è che di questi soggetti si conosce poco o nulla si tratta quasi sempre di società responsabilità limitata con un capitale sociale minimo di 10.000 euro per cui assolutamente incapienti per cui queste società eventualmente delle proprie malefatte non saranno mai in grado di rispondere e nessuno si chiede però chi ci sia dietro queste società e soprattutto dove queste società poi prendano i soldi per andare a comprare dalle banche i loro crediti quindi questo è un altro aspetto fondamentale il terzo e ultimo aspetto che riguarda la maggior parte degli italiani e soprattutto di chi cerca di difendere con le unghie e con i denti la propria casa riguarda la gestione dei mutui prima casa e delle sofferenze legate alla prima casa quindi perché il meccanismo che si è determinato è un meccanismo veramente raccapricciante quindi abbiamo un mutuo non pagato in questo mutuo su questa casa ci vive praticamente una famiglia normale italiana di magari quattro persone monostipendio che ha avuto delle difficoltà anche per la pandemia o perché ha perso il posto di lavoro non è stata più in grado di rispettare puntualmente le scadenze di pagamento onorare mensilmente i pagamenti dovuti a questo punto la banca cede per un 20% del valore quel mutuo questa famiglia si trova praticamente a dover subire l'aggressione attraverso l'espropriazione sforzata da parte di questa società veicolo che recupererà da quella vendita all'asta soltanto una minima parte del proprio credito quindi noi abbiamo ottenuto due risultati che sono entrambi estremamente negativi la casa è stata perduta questi soggetti non hanno istinto il proprio debito e si vedranno diciamo rincorrere anche per le generazioni successive fino a quando questo debito non si è istinto quindi qui una proposta molto sensata quella di cui si faceva riferimento poc'anzi è quella di gestire perlomeno questa questione legata alla prima casa legata ai mutui in sofferenza in prima casa mettendo il mutuatario nella condizione di poter rinegoziare con la banca o con un diverso istituto di credito quel mutuo in modo da poter ritornare a pagare salvando la propria abitazione anziché assistere passivamente a quello che accade oggi cioè la banca cede per il 20% il mutuo a questa società veicolo quella società veicolo lo paga e soltanto il 30% recupera si e no dalla vendita all'asta quel 30% e quindi l'unico diciamo danneggiato alla fine della fiera è proprio il povero mutuatario che se messo in condizioni diverse avrebbe potuto diciamo salvare se stesso e la propria famiglia quindi diciamo nel settore ecco bancario nel settore professionale di cui io personalmente mi occupo l'intreccio anche con quelle che sono poi le scelte politiche le scelte legislative è indubbiamente molto forte direi l'odorevole Enrico Cappelletti lei un paio di banche almeno un paio di banche al centro degli scandali e che hanno poi causato molti problemi agli azionisti riconosce molto da vicino mi riferisco a Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca perché lei se ne è occupato in Parlamento e sul territorio di Vicenza proprio per aiutare queste persone che hanno perso tutto insomma a recuperare qualcosa quindi portando anche la loro voce poi in Parlamento vuole raccontare al pubblico del Lazio che magari non ha seguito bene come voi l'episodio cosa è successo e se nel frattempo la politica è intervenuta per evitare che questo possa accadere di nuovo questa è veramente una domanda una domanda difficile e che pone anche pone fare tutta una serie di riflessioni però andando per gradi io mi sono occupato di queste questioni perché sono Veneto sono di Vicenza ed ero parlamentare all'epoca di questi due crack che hanno lasciato praticamente abbruciato in un colpo solo i risparmi di una vita spesso anche di più generazioni addirittura di 200.000 famiglie quindi ha avuto una conseguenza sul piano economico ma anche sociale veramente devastante ora questo è accaduto ed è potuto accadere perché ci sono state tre situazioni che si sono venute a incrociare sicuramente la malversazione da parte degli amministratori di alcuni amministratori ci sono state delle sentenze di condanna penali in primo grado o in secondo grado adesso vedremo se si riesce superando la spada di Damocle della prescrizione ad arrivare ad una sentenza definitiva però mi pare che le responsabilità siano al di fuori di ogni dubbio ma non è stato sufficiente c'è stata poi chiaramente una non efficace sorveglianza da parte degli enti proposti e parlo di Consobo e Banca d'Italia chiaramente era un disastro da prevenire intervenire a cose fatte purtroppo diventa completamente inutile ma terzo come se non bastassero questi due fatti ci si è messo di mezzo pure il governo all'epoca governò Renzi con un provvedimento tra gli altri che prevedeva lo scorporo di queste due banche in due parti Good Bank da una parte che veniva acquisita per un euro da banca intesa e Bad Bank che avrebbe dovuto essere messa in liquidazione per quello che si sarebbe potuto in qualche maniera liquidare ora in questa situazione lo stesso provvedimento prevedeva uno scudo per la società acquirente cioè banca intesa acquistava da un euro Popolare di Vicenza Veneto Banca e chi anche ha ragione avrebbe voluto intentare una causa per chiedere un esercimento del danno subito in virtù proprio del disastro relativo ai crack non aveva neppure lo strumento per poter adire alle vie regali per poter vedere soddisfatta questa o almeno in una sede giudiziaria fatta questo tipo di valutazione ecco questa è la situazione ora se mi si domanda ma potrebbe ancora succedere ora io credo che il problema principale al di là del fatto che insomma rispetto alla violazione del codice penale e qui penso possiamo essere tutti d'accordo ma quello che dovrebbe dove dovrebbe intervenire il legislatore è in una regolamentazione più seria dei conflitti di interessi io su Popolare di Vicenza abbiamo visto tutta una serie di passaggi di soggetti da soggetti controllori ad essere assunti in ruoli anche apicali importanti dirigenziali all'interno del soggetto controllato mi ha veramente fatto mi ha colpito un procuratore un ex procuratore della Repubblica che peraltro aveva indagato su Zonin sul presidente della Banca Popolare di Vicenza e aveva archiviato il fascicolo a distanza di anni ce lo troviamo in una posizione apicale all'interno di una società controllata dalla Banca ecco questo è una cosa che grida vendetta in cielo in terra e non può e non deve succedere ma mi si lascia dire anche che c'è un altro conflitto di interesse forse ancora più grande rispetto al quale però bisognerebbe mettere una grossa lente che è il conflitto di interesse che associa la politica al management di queste banche perché da una parte abbiamo la politica che necessita certa politica che necessita di finanziamenti elettorali dall'altra abbiamo gli imprenditori che magari sono anche ben propensi di finanziare la politica in cambio di un aiuto magari ad ottenere un credito non ben garantito da parte di un istituto di credito e dall'altra abbiamo avuto nel caso della Popolare Vicenza Veneto Banca che erano due banche prima della trasformazione in SPA che erano sostanzialmente delle cooperative dove il voto capitario quindi per poter essere mantenuti nel ruolo e funzioni con cui l'auto stipendi dovevano avere migliaia e migliaia di voti durante le assemblee quindi un bisogno una necessità da parte degli amministratori di queste società della politica ossia di farsi vedere in prima quando c'erano le assemblee di queste banche c'era in prima fila c'erano sempre gli esponenti politici più in vista che prestavano endorsement nella maniera più chiara nei confronti degli amministratori ecco questo è chiaro che è un conflitto di interesse incredibile rispetto al quale magistratura ma anche la commissione bicamerali sulle banche dovrebbe fare dovrebbe porre un'attenzione perché tanto si è capito sul meccanismo che ha portato i crack ma rispetto a questo buco nero che sono i rapporti tra la politica e il management dalle banche abbiamo ancora un grande punto di domanda che se non viene risolto mi porta a far pensare che una situazione del genere potrebbe ancora ripresentarsi in futuro chiarissimo non è fatto qualcosa di positivo bisogna stare veramente molto attenti e torno da Thomas Markinson del fatto quotidiano perché così ci spostiamo dal territorio veneto di cui ci ha parlato l'onorevole Cappelletti a quello romano e del Lazio perché Markinson lei prima ci ha parlato dei decreti nel freezer diciamo così da parte del governo ovvero dei soldi promessi che non sono arrivati accennava a qualcosa in particolare che ha trovato su Roma e su Lazio quindi dico ai telespettatori orecchia aperte perché qui si parla di soldi che dovevano dovranno dovrebbero arrivare sul territorio dovrebbero forse allora Lazio la tratta Roma Latina 200 milioni di euro c'è parte dello sblocca cantieri 2019 e il collegamento intermodale sono fermi lì fermi lì perché manca il decreto attuativo è scaduto il 31 vado avanti l'acquedotto di Roma 200 milioni articolo 520 della legge di bilancio che dicevo prima individuazione degli interventi oggetto di finanziamento per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del peschiera che è il principale acquedotto di Roma è scaduto il 30 aprile tratta della salaria 50 milioni ok indicazione delle tratte da finanziare per il potenziamento ricca l'indicazione e adeguamento della SS4 salaria nonché le modalità di erogazione del finanziamento niente ospedali di Latina e Frosinone 25 milioni di euro sono ospedali di queste due province per opere di edilizia ristrutturazione adeguamento ma anche qui il decreto è scaduto quindi dalle strade agli ospedali agli acquedotti tutte le infrastrutture in sostanza esatto infrastrutture molto importanti per somme veramente mastodontiche di cui ci ha parlato Malkinson grazie mille veramente per questo dossier invito tutti a continuare a seguire Malkinson sul fatto quotidiano perché ha la capacità di analisi di tirar fuori queste storie e anche di altro tipo veramente eccezionali assolutamente una delle mie letture preferite il fatto quotidiano e il particolare Thomas insieme ovviamente ad altri suoi eccezionali colleghi Cadaruocco prima lei accennava ad una proposta di cui ha parlato sul Sole 24 Ore relativa ai crediti deteriorati adesso ho l'occasione per spiegarcelo un po' più nel dettaglio infatti ringrazio anche l'avvocato che mi ha preceduto perché ha sollevato un tema fondamentale che come dicevamo è quello dei crediti in sofferenza e qui si parla di una categoria in particolare delicatissima che è quella che poi vengono che hanno alla base una garanzia ipotecaria quindi significa che io ho ottenuto ovviamente un credito dando in garanzia la mia abitazione oppure il bene strumentale di un'impresa che cosa succede? che ovviamente devo pagare le rate del mutuo attenzione pensi quanto è attuale questa proposta perché in questo momento di tassi chi ha un mutuo a tasso variabile con l'aumento dell'inflazione e contestualmente dei tassi di interesse si ritrova in grandi difficoltà quindi questa proposta va assolutamente ripresa e va portata avanti da questa maggioranza perché ovviamente si arriva al punto che proprio per l'andamento tra l'altro crescente del canone ci possono essere difficoltà la procedura attuale ordinaria fa sì che si perda facilmente come appunto descriveva in maniera sentita dell'avvocato il tetto sulla testa attraverso una procedura d'asta che è dire vessatoria e dire poco e che tra l'altro distrugge definitivamente sia sul piano personale che sul piano professionale il povero accreditore che il debitore che in quel caso deve perdere l'abitazione principale talvolta o anche l'immobile che fa andare avanti la propria impresa quindi chiudere l'impresa nel giro di poco tempo bollinato come cattivo pagatore quindi è la fine di quell'attività e la fine della sicurezza di quella famiglia cosa fare? questa proposta dà una strada alternativa importante che non esclude le altre ma che appunto crea un'autostrada nuova gli attori in campo sono tre il debitore il creditore in questo caso tendenzialmente la banca non sempre ma ovviamente la stragrande maggioranza dei casi è un fondo un fondo che può intervenire il cosiddetto FIAC un fondo chiuso quindi che immobiliare che viene ad intervenire acquistando l'immobile ora ovviamente adesso vediamo a quali condizioni acquista l'immobile attenzione è libera innanzitutto immediatamente il debitore dalla sua posizione quindi questa persona intanto può continuare non è bollinata come cattivo pagatore e può continuare tranquillamente la propria attività nonché a stare nell'immobile in che modo? una sorta di rent to buy cioè rimane se ovviamente il debitore lo vuole perché ci potrebbe anche essere una decisione alternativa in quel caso si estingue il debito al prezzo pattuito il resto va ovviamente nelle tasche del debitore che decide di andare a vivere altrove se ha un'alternativa oppure rimane nell'immobile temporaneamente come un conduttore colui che affitta l'immobile ad un canone calmierato quindi sostanzialmente si è fatto un vuoto per pieno una valutazione che arriverebbe circa al 50% rispetto alla rata del mutuo quindi qualcosa di sostenibile per il debitore che nei 10 anni successivi se i tre attori in campo sono d'accordo e quindi l'operazione viene conclusa nei 10 anni successivi ha la possibilità di riscattare l'immobile in cui sta dentro ad un prezzo prestabilito al momento T con zero cioè al momento di questa operazione questo che cosa significa? che per 10 anni ha la serenità con la famiglia di restare dentro quella casa di rimettere in piedi la propria impresa di appunto avere come riferimento un canone agevolato quindi diverso dalla rata del mutuo e contestualmente non avere la bollinatura di cattivo pagatore quindi poter continuare a svolgere la propria attività quali vantaggi ha il FIA? ecco in questo caso ci sono il fondo la proposta mette anche in campo delle garanzie per il fondo immobiliare il quale ha delle agevolazioni fiscali particolari rispetto a queste compravendite oltre al fatto che ovviamente avendo la possibilità di entrare in proprietà degli immobili ci saranno alcuni immobili per i quali ci si avverrà di questa opzione di rimanere all'interno altri che il FIA stesso potrà immediatamente mettere sul mercato ottenendo un plus valore perché ovviamente il prezzo di acquisto in quel momento è inferiore rispetto a quello di mercato e comunque non può essere inferiore a certi parametri che la legge stabilisce molto bene quindi non può essere inferiore per esempio al cosiddetto netbook value che è il valore di quella posizione netto all'interno del bilancio bancario quindi la banca in questo caso anche come dicevo il patrimonio della banca è tutelato il debitore ovviamente ha un vantaggio perché non viene venduto l'immobile all'asta a prezzo stracciato e quindi oltre ad essere privato del possesso oltre a poterlo riscattare e a valersi dello stesso prezzo stabilito al momento della conclusione dell'operazione quindi fa un po' grazie mille Ruocco per averci spiegato chiaramente questa proposta avvocato Giuseppe De Simone in conclusione questa sera lei e gli altri ospiti abbiamo cercato insieme di spiegare in termini diciamo accessibili un discorso complesso come quello economico e delle banche lei non crede però che quando una persona che magari non ha gli strumenti come la maggior parte delle persone per comprendere questi argomenti si trova poi da sola di fronte alle banche non è anche grazie a questo che alcuni istituti come quelli di cui ci ha parlato l'onorevole Cappelletti riescono ad approfittarsi dei risparmiatori e cosa fare se è veramente soli diciamo che il gioco non è perfettamente paritario per esempio riallacciandomi a quello di cui stavamo parlando prima cioè al rialzo dei tassi di interesse quindi al problema che oggi moltissime famiglie si trovano in grossa difficoltà perché hanno visto schizzare la propria rata del mutuo variabile di diverse decine di euro il gioco non è paritario perché a differenza di una persona di ordinaria dirigenza di un consumatore anche di tutti noi quando ci richiamo in banca per chiedere un mutuo ci viene prospettata la scelta classica fra mutuo a tasso variabile fisso il tasso variabile è più allettante perché necessariamente più basso di quello fisso quindi noi siamo propensi ad accettare il tasso variabile perché riteniamo di risparmiare il gioco non è paritario nel senso che dall'altro lato cioè la banca sa benissimo quale sarà l'andamento dei tassi ma non di qui a una settimana di qui a 10 a 15 anni cioè gli analisti che operano che ne so a Wall Street che tirano le fila del nostro mondo attuale finanziario sanno benissimo che cosa accadrà domani quindi la partita non è paritaria perché io ti sto io banca ti sto vendendo oggi una cosa allo 0,5% ma so benissimo che fra sei mesi fra un anno quello 0,5% mi produrrà il 5% dall'altra parte invece io chi in perfetta buona fede ritiene che quel 0,5% sia un ottimo affare e che quindi abbia fatto bene a sottoscrivere quel contratto e come possono fare quindi diciamo l'aspetto fondamentale l'aspetto importante in questo come in tantissimi altri casi come accade nella medicina dove no prevenire è sicuramente meglio che curare prima di sottoscrivere un mutuo o comunque di contrarre un qualsiasi impegno di carattere finanziario sarebbe opportuno e sarebbe buona cosa farsi diciamo assistere da un esperto per far per comprendere diciamo tutte le condizioni di quel contratto soprattutto tutte le conseguenze economiche e finanziarie che quel determinato impegno a cui quel determinato impegno ci viene ad esporre questo ci consente di fare una scelta sicuramente più consapevole cercando per quanto possibile di metterci al riparo ecco da sorprese che possono essere tutt'altro che piacevoli e sicuramente poco gradite molto chiaro allora io ringrazio i miei ospiti che questa sera ci hanno aiutato a parlare di questo argomento così importante e complesso ma in modo semplice Carla Ruocco Enrico Cappelletti l'avvocato Giuseppe De Simone e Thomas Malkinson grazie adesso parliamo di un tema molto delicato quello della maternità surrogata anche volgarmente detto utero in affitto un nostro inviato è stato in Ucraina presso la clinica Fescov Human Reproduction Group che si occupa appunto di medicina riproduttiva vediamo il servizio un nostro inviato è stato in Ucraina al Fescov Human Reproduction Group dove le coppie che affrontano problemi di infertilità possono trovare una speranza e del supporto oggi parleremo con il professor Fescov che guida questo centro ed è considerato uno dei principali esperti del campo della medicina riproduttiva la nostra clinica offre una gamma ampia di servizi nel campo della medicina riproduttiva dall'offerta della consulenza per la concezione naturale al programma di fecondazione in vitro alla ricerca di competenza genetica degli embrioni che è abbastanza importante per aumentare la percentuale di gravidanza e il tasso di successo della gravidanza un metodo in generale è l'uso della maternità surrogata rivolto a coppie che non sono in grado di dare alla luce un bambino da sole per qualsiasi ragione in conformità con le leggi dell'Ucraina utilizziamo l'intero spettro nella cura di questi pazienti esclusivamente sulla base di indicazioni è importante notare che la GPA è un processo complesso e di responsabilità che richiede un'accurata preparazione e consulenza con specialisti presso il Fescof Human Reproduction i pazienti ricevono un supporto e una guida completi in tutte le fasi del trattamento nonché assistenza legale nella diagnosi genetica preimpianto prima studiavamo gli embrioni di tre giorni ma ora abbiamo praticamente abbandonato questo metodo e lo studio viene fatto al quinto giorno di sviluppo dell'embrione allo stadio di blastocisti quando viene effettuata una biopsia del trofoblasto da cui si ottengono due, tre, quattro o cinque cellule il trofoblasto è ciò da cui si sviluppa in seguito la placenta quindi è praticamente sicuro e non influisce sul feto in futuro la diagnosi genetica preimpianto ha avuto inizio all'incirca nel 2012 nel 2016 pensavamo di aver risolto tutto ma abbiamo continuato a migliorare la percentuale di gravidanza di gravidanza a termine di gestazione e di parto viene già utilizzata ampiamente fra le cose che rendono la clinica del professor Feskov fra le più ricercate è la presenza del suo proprio banco di donatori di uova e sperma che consente ai pazienti di scegliere i donatori adatti tenendo conto dei loro bisogni e delle preferenze individuali la clinica utilizza tecnologie e metodi avanzati per massimizzare la possibilità di una gravidanza di successo ad esempio una paziente aveva 44 anni di solito il limite di età per la gravidanza è di 47 anche se la gravidanza può verificarsi anche dopo i 50 ma si tratta di un caso su 20 25.000 nasce non volevamo inserirla nel programma ma in qualche modo ci ha convinto abbiamo fatto 5 o 6 stimolazioni abbiamo ottenuto 4 o 5 cellule e una si è rivelata completa e lei è rimasta incinta si tratta più di un'eccezione alla regola di solito le assicurazioni occidentali non incoraggiano queste cose noi possiamo permetterci un po' di più quindi ci sono un sacco di esempi del genere nella maternità surrogata ci sono tanti alti e bassi si possono scrivere storie di ogni tipo storie tristi come i figli di coppie più anziane che non ce la fanno noi ricorriamo alla maternità surrogata come metodo che occupa lo 0,20,3% delle tecniche generali di trattamento ma questo metodo permette alle persone che prima avevano pochissime possibilità di diventare genitori la clinica riproduttiva Fescov dunque aiuta ogni tipo di coppia e singolo a realizzare una famiglia a realizzare questo sogno negli ultimi 25 anni hanno aiutato oltre mille coppie a diventare genitori grazie appunto a questa struttura e alle tecnologie di cui ci parla il professore quando decidi se accettare o meno una coppia in un programma di GPA devi valutare molti fattori innanzitutto devi capire dove andrà il bambino la legge in queste cose non dà obblighi tuttavia a 70 anni pur potendo fare la maternità surrogata in qualsiasi momento e come vogliamo non riteniamo giusto farlo la GPA è l'ultimo treno e cerchiamo di arrivare fino a 45 o 50 anni perché un bambino ha ancora bisogno di ricevere calore cure bisogna prestargli attenzione e men mano che si cresce queste cose cambiano quindi le persone che prendono questa decisione sono solitamente molto responsabili Fesco Human Reproduction Group è un partner esperto ed affidabile per coloro che cercano aiuto nella lotta contro l'infertilità e desiderano realizzare il sogno di avere un bambino e abbiamo qui in studio una manager della clinica del professor Fesco Lesia Babi benvenuta piacere a lei faremo delle domande su quelle che sono le polemiche che ci sono in Italia così che possa avere l'opportunità di fare chiarezza su quei punti che dividono molto il paese la prima domanda dottoressa che le faccio che è poi la prima che viene in mente a chiunque guardi il servizio la clinica si trova in Ucraina in questo momento non è pericoloso collaborare con voi per una coppia per esempio italiana come funziona? posso confermare che per i nostri clienti sia italiani che da altri paesi europei tutto il mondo è sicuro collaborare con la nostra clinica l'Ucraina è sempre stata una distinuazione molto popolare per maternità surrogata data dall'attuale situazione in Ucraina può sembrare impossibile ma anche grazie al governo italiano e altri paesi europei anche americani di tutto il mondo Kiev è il nostro capitale dotato di serie installazioni di difesa aerea allora la nostra clinica di Kiev è completamente lavorativa e appunto arrivano già dal scorso estate tanti coppi nella nostra clinica specialmente arrivano quelli che hanno bisogno di una cura speciale medica e un'assistenza medica più di questo noi forniamo servizio ai programmi di rimoto che sono stati elaborati dal tempi di covid quindi anche da remoto anche dal rimoto per questo noi forniamo un servizio di spedizione il materiale genetico dal vostro paese o dall'altri paesi europei dove abbiamo cliniche partner e allora in questo caso le coppie non devono venire in Ucraina prima che si nasce il bambino senza arrivare in Ucraina benissimo una delle polemiche dottoressa lei che si occupa in particolare del lato italiano lo saprà sulla GPA riguarda la questione dei diritti delle coppie gay delle coppie omosessuali e quali sono le percentuali da voi di coppie omosessuali ci può dire qualcosa a riguardo certo ce l'abbiamo diverse richieste di coppie omosessuali non lo facciamo la statistica speciale perché prima di tutto cerchiamo di rispettare la legge ucraina e la diritti di famiglia non prevede una procedura così per le coppie omosessuali la maternità assorogata è un programma adatta a coppie che hanno indicazioni medici quindi non è possibile rivolgersi all'Ucraina se si è una coppia omosessuale noi non facciamo l'indagine di come vivono le persone però se rivolge una persona single o un genitore single cerchiamo di elaborare programmi speciali ma sempre con la nascita fuori di Ucraina in paesi come Stati Uniti Canada Repubblica Ceca o Argentina ho capito molto chiaro un'altra polemica così almeno le elenchiamo tutte avete l'opportunità di fare chiarezza che c'è sulla maternità surrogata è quella di sfruttare le madri surrogate come tutelate i loro diritti come funziona al riguardo anzi le nostre madri surrogate stanno più protette rispetto a quelli di madri in famiglia diciamo non è surrogate in famiglie proprie prima di tutto è una decisione matura sia che per la donna che per i genitori prima di entrare nel programma le madri surrogate sottomessono un controlli un serie di controlli medici per confermare che donne veramente sane e proteggere il suo loro saluto in futuro e anche hanno due o tre seduti con un psicologo che conferma che questa donna è veramente in grado di portare in termini una gravidanza più di questo le madri surrogate con i futuri i giritori trovano d'accordo prima di trasferire un embrione nel game bro chiarissimo senta voi avete richieste da vari paesi europei e non solo dall'italia quante richieste arrivano anche in percentuale se ci vuole dare qualche dato al riguardo per capire l'identità della questione in Italia abbiamo tantissime richieste da tutti i paesi di mondo sia da Stati Uniti da Australia anche da Asia e di diversi paesi europei la mansguardia ce l'abbiamo tedeschi cioè da Germania poi c'è la Francia Regno Unito ma anche italiani purtroppo l'ho visto la situazione che i nostri sito web in italiano vengono bloccati quando ti metti ricerca maternitasorogata.it non ti dà nessuna informazione se i genitori sono capaci di cercare in inglese sarebbe bene oppure propongo di usare una VPN così lo trovate tutta l'informazione una volta trovato il nostro sito potete compilare un modulo e il nostro manager vi contatterà in breve entro una giornata lavorativa perfetto anche in italiano perché come vediamo lei parla benissimo più che in italiano tra poco appunto già ci sono i primi blocchi ma comunque il governo ha annunciato l'intenzione di rendere illegale di rivolgersi anche all'estero quindi per esempio nel vostro paese per appunto la GPA gestazione per altri quindi il tempo stringe per chi volesse realizzare questo sogno di avere una famiglia quanto tempo ci vuole per iniziare un programma con voi? noi cerchiamo sempre di fornire tutti i servizi complessi dal primo contatto all'inizio di programma passa da uno a tre quattro mesi ma tutto dipende dalla decisione matura di copia a partecipare questo percorso di seguire questo percorso poi una volta iniziata la programma facciamo tutto secondo un piano abbiamo un calendario che viene anche presento alle copie e in generale i programmi durano da 12 questo periodo più breve fino a 36 mesi ok quindi minimo un anno fino appunto a 36 mesi una volta completato questo processo e quindi finalmente nasce questo bimbo o questa bimba e c'è un'altra sfida che è quella burocratica quella legale voi aiutate le famiglie anche nel produrre i documenti legali necessari sì certo noi lavoriamo sotto un solito brand clinica di professor Fescoff che include sia clinica che si occupa delle pratiche mediche più il centro della maternità sorrogata che include un staff di manager e anche di giuristi ovviamente prima di elaborare il piano medico elaboriamo anche il piano supporto legale e sempre usiamo la particolarità della legislazione del paese di provenienza di futuri genitori anche di paese dove viene nato il bambino lavoriamo anche con i nostri colleghi in Italia con avvocati specialisti che danno diverse consulenze a noi e in questo caso voglio sottolineare che il Stato italiano vuole far uscire un decreto speciale che proibirà a partecipare le copie italiane a questa pratica di maternità sorgata ma voglio dire che ogni bambino nato con questo programma ha il suo diritto di essere registrato correttamente nel suo paese nel paese di sui genitori per avere dopo una piena famiglia e portare la giù a sui genitori certamente la cosa più importante poi alla fine sono ovviamente i diritti dei bimbi che sono tutti uguali e quindi la tutela insomma della loro dignità e di quella delle famiglie e dei loro diritti grazie mille dottoressa spero veramente che con questa intervista si sia riuscito a rispondere a molti dubbi che ci sono nel nostro paese grazie grazie a lei adesso parliamo di salute e bellezza siamo andati a trovare il dottor Luca Bernardini che è un dentista ma con un servizio molto particolare guardiamo siamo a Roma in via Tituoro Nobili 36 dal dottor Luca Bernardini che ci presenta il suo approccio dentalift da quale necessità deriva questo metodo questo approccio che utilizza nel suo studio come odontoiatra mi sono sempre occupato dell'aspetto intraorale dei pazienti quindi di andare a risolvere la mancanza dei denti nel tempo ho visto che però non era sufficiente per avere la piena soddisfazione della risoluzione dei casi e dei problemi che si presentavano perché la mancanza dei tempi unita al passare del tempo porta a un cambiamento anche dei tessuti del viso e dei supporti scheletrici quindi ho creato una metodica di approccio full face che combina la parte intraorale quindi di andare a sostituire i denti con delle protesi fisse in 24 ore a una sistemazione completa dei tessuti del viso poi oggi estetica e salute vanno veramente a braccetto sono direi imprescindibili ma quindi stiamo parlando di filler in questo caso? allora il filler diciamo è una delle possibilità che c'è oggi nella medicina estetica per andare a rivolumizzare i tessuti dei pazienti però non è l'unica quella che utilizzo io è la biorivolumetria che è l'ultima frontiera della medicina estetica che va oltre il filler che è un semplice riempitivo con degli acidi aluronici piuttosto densi che danno un buon volume ai tessuti ma che nel tempo tendono a riassorbirsi beh sì si crea una sorta di dipendenza no? la biorivolumetria ha il vantaggio di unire la parte volumetrica del filler e la parte di biorivitalizzazione quindi con degli acidi ialuronici lavorati in purezza che danno una stimolazione alle cellule dell'organismo che quindi nel tempo tornano loro stesse a produrre collagene in definitiva non ci si trova semplicemente riempiti ma i tessuti diventano poi effettivamente più giovani l'effetto è quello di essere di sembrare più freschi e riposati alla termine dei trattamenti beh questo è molto interessante ma quindi il viso non esce sconvoto che è una diciamo delle paure cioè vado dal dentista e sembra che sono uscito dal chirurgo estetico visto che oggi diciamo si vedono dei trattamenti filler fatti anche in maniera importante la paura è quella al termine del trattamento di andare oltre questa cosa con questo tipo di trattamento non avviene perché non hanno una struttura riempitiva così importante e riescono invece a distendere i tessuti e a idratarli dall'interno grazie dottor Bernardini è stato veramente molto chiaro adesso vorrei vedere insieme a lei come funziona tutto il processo cioè un cliente la contatta e poi cosa succede il paziente ci contatta prende un appuntamento presso il nostro studio e viene fatta un'attenta valutazione del suo caso sia dal punto di vista proprio della pelle e poi vengono realizzate delle foto intra ed extra orali che servono per discutere il caso insieme al paziente al seguito delle quali vengono presi tutti gli appuntamenti per portare a termine il caso quindi con quale cadenza avvengono gli incontri allora io preferisco incontri mensili proprio per non dare quel senso di cambiamento immediato ma di renderlo un processo graduale e quanto dura in media? cambia a seconda della situazione chiaramente di partenza quindi più ci sono rughe profonde da trattare più c'è uno svuotamento marcato più ci sono altre condizioni però mediamente siamo tra le 4 le 6 8 sedute grazie mille dottore è stato veramente molto chiaro e allora ci vediamo in studio è stato un piacere anche per me grazie a voi ci vediamo in studio e il dottore Luca Bernardini è qui in studio per rispondere ad alcune domande relative appunto alla medicina estetica alla salute dentale ed entrare un po' più in profondità su temi che interessano molto il nostro pubblico benvenuto dottore grazie dell'invito allora dottore siamo abituati a pensare alle donne quando parliamo di cura della bellezza dell'aspetto lei nella sua clinica si occupa anche però di salute dentale questo porta più uomini a rivolgersi a lei anche per la biorivolumetria come arriva e come arrivano a lei se così fosse esatto sì noi siamo abituati ad associare l'idea della bellezza e della cura del volto e della persona soprattutto ad un pubblico femminile e così è stato storicamente oggi il concetto di salute in realtà è diventato più ampio e il concetto anche di benessere si è visto che passa anche dalla bocca c'è una grossa differenza però ho visto nel tipo di approccio e di ingresso alle cure cioè mentre la donna ha sviluppato negli anni una sensibilità a questo e quindi ha una consapevolezza su quello che vuole quali sono le aspettative anche già dalla prima visita non si parla solamente dell'estetica del sorriso e dell'estetica dei denti ma con le donne si arriva già a parlare di che cosa vorrebbero migliorare del loro aspetto del viso perché abbiamo visto che il protocollo che utilizziamo serve per ridare in poche ore il sorriso alle persone dando i denti fissi e poi a prenderci cura anche di come sono cambiati i tessuti nel tempo quindi la donna ha già una consapevolezza in merito a questo l'uomo invece inizialmente è più focalizzato sull'aspetto funzionale quindi sul riavere i denti fissi e poi in realtà una volta riacquisito sicurezza inizia magari a vedere che c'è qualcosa che è cambiato nel tempo inizia a vedere che quando sorride vorrebbe tornare a sorridere come quando era più giovane e quindi si avvicina a questo tipo di terapie in maniera diciamo tardiva però diciamo c'è un buon 20% di uomini che in realtà richiede a queste cure e di solito sono immagino trascinate dalle mogli dalle compagni oppure non è necessariamente così molto spesso sono trascinate dalle mogli ma in realtà la maggior parte sente proprio il bisogno una volta riacquisito il sorriso di stare bene con se stessi bene bene questo è un aspetto molto interessante perché infatti voi in questo modo vi occupate anche della parte psicologica della questione ma poi questo magari ne parliamo in un'altra occasione a proposito un po' di psicologia molti hanno paura quando vanno dal dentista guardando i servizi abbiamo visto che oltre alla parte di cure dentali fa appunto la parte di medicina estetica questo dovrebbe in teoria amplificare anche un po' il senso di paura che hanno i pazienti cosa ci dice riguardo la sicurezza di questi interventi allora questi trattamenti che sono i trattamenti di biorivolumetria sono assolutamente sicuri in primis perché viene utilizzato un acido ialuronico lavorato in purezza che vuol dire quando si sceglie un prodotto per effettuare un trattamento è molto importante la qualità del prodotto stesso e i biorivolumetrici sono i prodotti più puri e più sicuri che ci siano in mercato perché a differenza per dire del classico filler che viene crosslinkato cioè viene legato nelle sue componenti in molecole più spesse e pesanti e biorivolumetrico è molto fluido e quindi dà tutta una serie di garanzie quali sono? la prima proprio dal punto di vista estetico che non forma in estetiche palline che possono vedersi sotto i tessuti dando adito a dei rigonfiamenti antiestetici se si eccede o nella frequenza dei trattamenti o nell'iniezione del filler stesso la seconda è che essendo lavorato in purezza non ci sono dentro delle componenti allergeniche che possono sensibilizzare nel lungo periodo il paziente inoltre anche la tecnica che viene utilizzata è una tecnica senza ago quindi non ci sono taglienti ma viene utilizzato un dispositivo atraumatico che non lascia quindi edemi cosa che succede per dire con la tecnica ad ago soprattutto nei pazienti mediamente donne che hanno la pelle più sensibile possono esserci dei libidi che durano anche 15 giorni anche 20 giorni a seconda della sensibilità della pelle invece con questa tecnica questo è quasi del tutto azzerato questo rischio quindi è meno invasiva come tecnica sostanzialmente sì 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 assolutamente è meno invasiva e meno traumatica benissimo benissimo grazie mille dottore credo che abbiamo fatto chiarezza su alcuni dei dubbi che hanno ovviamente i pazienti quando si rivolgono a certi trattamenti grazie dottore grazie intanto Capitol questa sera finisce qui ringraziamo i nostri telespettatori e ci vediamo alla prossima puntata buonasera grazie a tutti grazie a tutti